Ben trovati a tutti, nuovo appuntamento con tra le righe consigli di lettura in libreria. La libreria è quella Padre Pio a pochi metri dal santuario di Santa Maria delle Grazie. Bene, partiamo come accade ogni settimana con un libro edizioni Padre Pio da Pietrelcina dedicato alla vita, alla spiritualità del Santo e del Santo Frate stigmatizzato e vi presentiamo un piccolo libro, ma piccolo solamente nelle dimensioni perché raccoglie tutte le esortazioni, consigli, pensieri del Santo di Pietrelcina. Si intitola Buona Giornata ed è un libro, come leggiamo nella presentazione, che sono trascorsi, pensate, 47 anni dalla prima edizione di questo volumetto tascabile che raccoglie 365 pillole della saggezza evangelica di Padre Pio, una per ogni giorno dell'anno, esattamente una appunto per 365 giorni. In questo mezzo secolo il contenuto di questo libricino non ha perduto la sua freschezza, intramontabile perché è fondata sulla certezza che Gesù Cristo è sempre lo stesso, ieri e oggi sempre. Ci sono state numerose richieste per la ristampa, riprogrammare appunto questo libricino perché, diciamolo pure, iniziare ogni giornata con una di queste brevi frasi di Padre Pio può fornire lo stimolo per porla sotto la protezione di Dio e disporsi a fare la sua santa volontà che possiamo conoscere attraverso la Sacra Scrittura. Ogni giorno dell'anno, un pensiero del Santo di Pietrelcina, ci sono anche delle bellissime foto, immagini di Padre Pio, prendiamo una frase così a caso. Voi potete scegliere se iniziare dal primo gennaio e arrivare al 31 dicembre oppure se pescarne una a caso come facciamo noi in questo momento. Benedico di cuore Dio che mi ha fatto conoscere delle anime veramente buone ed anche ad esse ho annunziato che le loro anime sono la vigna di Dio, la cisterna e la fede, la torre e la speranza, il torchio e la santa carità, la siepe e la legge di Dio che le separa dai figli del secolo. Quindi, come dire, davvero un concentrato di esortazioni evangeliche del Santo di Pietrelcina che potete tenere sul comodino, portare sempre con voi, tenere sulla scrivania o in borsa. Perché no? Ogni momento dell'anno è buono per una buona giornata di Padre Pio. Roberto Cavallo, scrittore, divulgatore scientifico e imprenditore, ha un'ampia conoscenza su progetti ambientali a livello locale, nazionale e internazionale, autore e divulgatore anche di numerose trasmissioni televisive, ha pubblicato per la LDC questo libro intitolato La Bibbia dell'ecologia, riflessioni sulla cura del creato. Perché come scrive nella presentazione Cavallo, quando entriamo in una casa che non è la nostra, chiediamo il permesso di entrare, ci puliamo le scarpe, guardiamo solo nelle stanze in cui siamo invitati a entrare, consumiamo solo quando ci viene offerto qualcosa e domandiamo dove possiamo buttare un rifiuto. E' con questo spirito che dovremmo imparare a stare sulla Terra, il pianeta su cui viviamo ma che non ci appartiene. E quello che mi ha colpito di questo libro sono dei Decaloghi che Cavallo stila per cercare di fare anche la nostra parte, per essere più green, come direbbero gli inglesi e gli americani, per essere più ecologici. Dieci azioni per fare meno rifiuti. Quindi andiamo sul concreto, diamo queste istruzioni per l'uso. Fare una lista della spesa quando si acquista. Quando sei a casa con la spesa svuota il frigo prima di riporre ciò che hai comprato. Scegli prodotti riutilizzabili e con meno imballaggi possibili. Cerca nella tua città qualcuno che ripare i materiali e anche se costa un po' di più fai riparare gli oggetti. Se una cosa non ti serve più regalala o cerca qualcuno a cui può ancora servire prima di buttarla. Pesa i rifiuti per almeno un mese, se ne hai prodotti più di mezzo chilo al giorno significa che stai sprecando troppo. Fai la raccolta differenziata e separa bene tutti i materiali. Deve rimanerti circa il 10% di indifferenziato, più o meno 2 kg in un mese. Se te ne resta di più significa che hai separato male. Bevi l'acqua del rubinetto, fai ricette con gli avanzi di cibo, preparati le marmellate, yogurt, biscotti, detersivi e altre cose in casa. Fai il compostaggio domestico, chiedi al tuo sindaco di poter fare il compostaggio di quartiere. Chiedi al tuo sindaco che adotti la delibera, rifiuti zero. Questi sono solo alcuni consigli che Roberto Cavallo dà in questo libro che viene anche condito, diciamo così, farcito da passi tratti dall'Antico Testamento, da Isaia al Deuteronomio, ai Proverbi, ai Salmi. Ci sono davvero degli spunti molto molto interessanti. Una vera e propria Bibbia dell'ecologia, quindi il titolo è azzeccatissimo, di Roberto Cavallo, edito dalla LDC. Riflessioni sulla cura del creato e naturalmente della nostra terra. Il mio canto è il Signore. Questo è il titolo di un libro che è una sorta di chiacchierata, conversazione, intervista a cuore aperto, di Monsignor Marco Frisina, autore, compositore, direttore d'orchestra. Una conversazione con Antonio Carriero, edito dalla LDC. E' ad oggi il compositore di musica sacra più conosciuto ma anche cantato a livello locale nelle parrocchie e nelle chiese del nostro tempo. In questo libro, in questa conversazione, Marco Frisina si racconta con un'appassionata e in intelligente profondità. Ha iniziato a comporre canti per le assemblee liturgiche sul consiglio dell'amico Giovanni Paolo II. Ha creato motivi che sono diventate delle autentiche hit nel panorama musicale sacro, ma non solo. Pensate a Jesus Cry, You Are My Life, che è diventato proprio l'inno della GMG del 2000. Ha realizzato colonne sonore di Multifiction ed è invitato a eseguire le sue opere nei maggiori teatri del mondo. Un'artista che nutre un unico grande desiderio. La musica mi serve per comunicare, raccontare Dio e l'uomo, e sento di avere ancora tante cose da dire. Voglio leggervi un passaggio, quando, insomma, è una conversazione, quindi si tratta di risposte, domande, domande appunto di Antonio Carriero, del giornalista Carriero, e risposte di Monsignor Frisina. Quando gli chiedono, bella questa domanda, che cosa le ha insegnato Giovanni Paolo II, secondo, lui risponde, il suo coraggio di andare oltre, sfidare il mondo, abbattere i muri, spalancare le porte, non avere paura di affrontare le sfide. Il messaggio più grande che mi ha lasciato è quello di andare avanti, con coraggio, perdonare il Vangelo attraverso la musica e la mia vita sacerdotale. Ci sono davvero tanti spunti di riflessione. Appunto, ricordiamo anche un altro passaggio della storia di Monsignor Marco Frisina, lui ha musicato la Divina Commedia di Dante, e poi racconta di aver sempre amato Dante, fin dai tempi delle scuole medie, e lo ha anche trovato, ha trovato in esso un itinerario spirituale bellissimo, e quindi mi è capitato appunto di musicare la Divina Commedia di Dante, andata in scena qualche anno fa, molto molto bello. Ci sono diversi capitoli, davvero ve lo consiglio, se volete sapere qualcosa di più di Monsignor Frisina, ma anche avere degli spunti interessanti quando si parla di musica sacra, e non solo. Il mio canto è il Signore di Monsignor Marco Frisina, edito dalla LDC. Ultimamente mi piace concludere le nostre presentazioni di libri con un libro, con delle piccole storie per l'anima. I libri sono diversi, firmati da un grande scrittore e anche cantastorie, chiamiamolo così, che è Bruno Ferrero, che di questi piccoli libri, piccole storie per l'anima, ne ha scritti davvero tanti. Racconti e riflessioni molto semplici, ma con una bellissima morale. scegliamone una riflessione che potrebbe riguardare tutti quanti noi, le calze di Giovanni. Nel XIX secolo, in una cittadina inglese, dopo mesi di lavoro, una schiera di muratori aveva terminato la costruzione di un'altissima ciminiera per una fabbrica. L'ultimo operaio era sceso dalla vertiginosa impalcatura di legno. L'intera popolazione della città era lì per festeggiare l'evento e soprattutto per assistere alla caduta spettacolare dell'impalcatura. Appena il castello di Assi e Travi crollò tra il frastuono, la polvere, le risate e le grida della gente, con stupore si vide spuntare sulla sommità della ciminiera la testa di un muratore che aveva appena terminato il lavoro nel colletto interno. La folla degli spettatori ammutò lì di colpo e l'orrore cominciò a serpeggiare in mezzo a loro. Ci vorranno giorni per alzare un'altra impalcatura e di qui ad allora quel muratore sarà morto di freddo o di sete o di fame. In mezzo alla gente c'era anche la mamma del muratore che sembrava disperata. Ma poi ad un tratto si fece largo e arrivata sotto la ciminiera fece un segno al figlio e gridò Giovanni togliti le calze. Un mormorio si diffuse poverina il dolore le ha fatto perdere la ragione. Ma la donna insistette per non preoccuparla di più Giovanni si tolse una calza. La donna gridò di nuovo rovesciala e cerchi il nodo e poi tira. L'uomo bidì e ben presto si trovò in mano una grossa manciata di lana. Fai lo stesso con l'altro e lega insieme i fili e poi buttane giù un capo e tieni l'altro ben saldo tra le dita. Giovanni eseguì al filo di lana fu legato un filo di cotone che l'uomo tirò fino alla cima poi al filo di cotone fu attaccata una cordicella la cordicella una corda e infine un robusto cavo. Giovanni lo fissò saldamente alla ciminiera e scese in mezzo agli urrà della gente. Morale di Bruno Ferrero la tua vita e la tua salvezza dipendono dalle cose piccole e fragili che molto probabilmente già possiedi basta pensarci. Con questa bella frase con questo augurio concludiamo questo appuntamento dedicato ai libri vi aspetto la prossima settimana come sempre per rivedere questa puntata ma anche le altre potete andare sulla nostra pagina sul nostro canale YouTube Padre Pio TV grazie ancora e buona giornata.